Non hanno mancato anche quest'anno i soci dell'Associazione Nazionale Marinae d'Italia di ricordare dell'anniversario della sua morte Filippo Montesi, il Marò di San Costanzo, deceduto in seguito ad un attentato compiuto dalle forze eversive in Libano, mentre con il battaglione San Marco era presente in quel paese per compiere una missione di pace. Sabato scorso i soci dell'ANMI, con il loro presidente Fabio Launaro, il sindaco di Fano Massimo Seri, il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, il vescovo Andrea Andreozzi, i parenti della giovane vittima, le autorità militari e le forze dell'ordine hanno organizzato una cerimonia di commemorazione davanti al monumento dei caduti in via Nazario Sauro. Per noi è un modello Filippo, quindi il nostro proposito è quello di continuare a ricordarlo ogni anno, ma non solo ogni anno, il 22 o il 23 di marzo, ma cercare di diffondere la conoscenza di quello che Filippo è stato durante tutto l'anno, coinvolgendo il più possibile associazioni e anche giovani ragazzi delle scuole, perché credo che sia importante che le nuove generazioni sappiano che cosa è successo in passato e che cosa un ragazzo è in grado di fare, che esempio è in grado di dare. Questi sacrifici hanno anche aiutato gli italiani a ricordare in modo diverso chi fa il proprio dovere e chi purtroppo perde la vita in queste situazioni. Noi speriamo naturalmente che la situazione che c'è adesso in Europa e in Medio Oriente non peggiori, che non ci siano altri giovani che potrebbero subire lo stesso destino. Però so che sono comunque tutti pronti ad accettare i rischi della propria professione e anche a difendere l'onore della patria.